non leggere troppi giornali non fidarti troppo dei social non guardare troppi notiziari insomma niente panico le informazioni sono tantissime e spesso un po' confuse fidati solo delle fonti ufficiali per capire cosa puoi o non puoi fare non fare il dinosauro stai attento noi non ci distingueremo andrà tutto bene